Come i cani vedono realmente i colori? Infatti Yuko esiste un filtro che mi farà vedere esattamente come vedi tu Sei pronto? Sìììì! Questi infatti Yuko sono i tuoi giochini, tutti belli colorati Ma no Yuko, ma li vedi così? Ma, ma cosa sono questi colori? Ma vedi praticamente soltanto il giallo e il blu Quindi Yuko anche il tuo sticino preferito rosso In realtà è giallo Ma ti piace lo stesso? Vediamo ragazzi se è vero Qua abbiamo una collina verde e una gialla Ma ovviamente Yuko vede soltanto quella di destra gialla Yuko, qual è la pallina più colorata? Bravo! Oddio ragazzi, ma allora è vero! Aspetta un attimo, ma qui da me come ci vede? Ma sembra una dei Simpsons! Ma siamo gialli! Ma come? Vabbè dai, le nostre maglie si vedano